Non c'è nessun interesse da parte di Ryanair ad acquistare Air Italy. Dopo l'indiscrezione e le voci circolate ieri su un possibile interesse della compagnia low cost irlandese ad entrare nella società proprietaria di Air Italy, i vertici Ryanair hanno fatto chiarezza stamattina nel corso di una conferenza stampa tenuta a Milano. Viene meno quindi una delle possibili soluzioni alla crisi societaria che ha portato alla fine alla compagnia aerea gallurese che ha sospeso i voli e ha riprotetto i passeggeri con altri vettori. La compagnia irlandese in questa fase sembra più interessata ad acquistare nuovi clienti così come del resto le altre low cost che puntano a riempire il vuoto lasciato da Air Italy. Altra soluzione prospettata in queste ore è quella dell'ingresso della regione al capitale sociale della compagnia al fine di salvare i 1200 posti di lavoro, 550 dei quali in gallura. I sindacati e i dipendenti chiedono al governo nazionale e a quello regionale di intervenire tempestivamente per salvare il salvabile. In gioco non ci sono solo posti di lavoro ma l'economia di un'intera regione che fa del turismo una delle voci più importanti senza dimenticare le problematiche legate alla mobilità dei sardi che perdono uno dei pilastri fondamentali che per 60 anni sia pure non senza problematiche ha garantito lo sviluppo del trasporto aereo tra la Sardegna e il continente. Il 18 febbraio a Cagliari è previsto un incontro tra i sindacati e i dipendenti con i capi gruppo in consiglio regionale ma tutte le istituzioni si stanno mobilitando nella consapevolezza che la fine di Air Italy potrebbe innescare un effetto domino dalle conseguenze difficilmente prevedibili e che avrebbero effetto sul medio e lungo periodo. Il governo nazionale è impegnato a far esistere il principe Aga Khan dal chiudere un'avventura intrapresa da pioniere 60 anni fa sulla pista di Vena Fiorita. Sulla stessa linea anche la regione che si trova a gestire la crisi Air Italy mentre sta cercando di risolvere il rebus della continuità aerea. Grazie. Grazie. Grazie.